La pala di Luca Di Paolo e la Tanagrina tornano visibili a Casa Bruschi ad Arezzo. È stata infatti in occasione dell'anno di celebrazione del centenario della nascita di Ivan Bruschi che è stata organizzata una speciale serata di presentazione per le due significative opere d'arte tornate al museo dopo un periodo di restauro. Ha convocato qui a Casa Bruschi delle altissime professionalità per la statuetta del IV secolo a.C. da Tanagra l'Opificio delle Pietre Dure con una batteria di ricerca assolutamente straordinaria che ha dato dei frutti assolutamente importanti e dall'altra una restauratrice Muriel Vervat che è una delle più prestigiosi restauratrici che operano a livello toscano ma anche nazionale. Quindi la fondazione ha recuperato due piccoli capolavori che dimostrano come il percorso del museo sia un percorso a tutto campo che va dall'archeologia fino ad arrivare all'arte del 400, del 500 fino all'800. Sono due leader nella nostra favolosa collezione quindi siamo molto orgogliosi di presentarli nella loro integrità ma soprattutto nella loro bellezza che grazie a questi restauri è stata riportata al massimo dello splendore.